Rimane al Prato l'edizione di giugno della Fiera Antiquaria di Arezzo, nonostante la volontà della maggior parte degli espositori di farla tornare nella sua location tradizionale, Piazza Grande e le vie del centro città, ma sentiamo le loro opinioni. Loro non possono occupare il nostro posto per ristoranti. Poi i ristoranti ce l'hanno trovata la Fiera, perché la Fiera Antiquaria ha fatto grande Arezzo. Io preferisco molto di più nel centro storico, anche perché sono esponente sotto le loggie, ho tutti i miei servizi, poi ormai 16 anni che espongo lì, siccome i clienti vengono subito al posto dove è solito. C'è un bel ambiente qua e quando c'è tanto sole è più fresco, però c'è tanta gente che non sale fino a su e magari anche non lo sanno. Vengono, vedono che non c'è niente e se ne vanno, quindi sarebbe meglio tornare dove eravamo. Il centro storico è molto più comodo per noi, anche per un bisogno di un bagno, la polvere, siamo vicini a dei servizi, tipo anche il cibo, tutte queste cose. Al di là di quello che qui c'è più spazio, però se prima possibile si potrà arrivare in città, direi che è una cosa bella forse un po' più per tutti. Commercialmente è meglio giù al corso, perché qui è molto dispersiva, facciamo da anni, ma una volta all'anno venire qui basta e avanza, per cui forse al mese prossimo ci rimettono giù, speriamo. Io perlisco giù al corso, cioè è più concentrato, poi facciamo da decenni, per cui ormai sappiamo come funziona. E tra i tanti che contestano questa location c'è anche invece chi la preferisce. Preferisco qua, comunque sì, è più bello, siamo in mezzo al verde, c'è più giro, io preferisco il prato. Sprengiamo per il tempo, perché qui insomma la sensazione non è... Di solito con la fiera piove. No, speriamo che non piova per la fiera, facciamo le corne.